E' una storia fatta di passione, nata qualche anno fa dall'idea di Emanuela Alfiero, di dare vita ad un progetto che potesse diventare un punto di riferimento per prodotti, articoli e accessori e rendere così speciali eventi e feste. Da qui la nascita di Earpot Online e dopo il grande successo dell'e-commerce, la nuova scommessa di Emanuela Alfiero è stata di aprire il primo store Earpot a Sturno, per poter essere sempre a fianco dei propri clienti. Earpot è nata circa dieci anni fa, è nata rivolgendosi soprattutto alla clientela online. E' da pochissimo che abbiamo deciso di aprire uno store fisico qui a Sturno per offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di poter vedere e toccare con mano i nostri prodotti. Qui siamo nella parte dedicata al Natale e abbiamo un vastissimo assortimento di prodotti tra alberi, palline, fiocchi, decorazioni soprattutto per l'interno di ogni abitazione. Ci sono tante curiosità, tanti babbi Natale, vediamo dalle immagini. Possiamo davvero allestire nel modo più appropriato le nostre case ma non solo? Assolutamente, qui potete trovare realmente di tutto, potete personalizzare a seconda del vostro gusto il vostro albero. In questo caso abbiamo davvero di tanti tipi e di diverse altezze, innevati, verdi e poi si può personalizzare a seconda del colore che uno preferisce. Abbiamo in rosa fiocchi, palline, luci di ogni genere, di ogni colore. Emanuele, toglimi una curiosità, visto che ormai ci accingiamo ad addobbare le nostre case per il Natale 2021, le novità quali sono? Abbiamo una serie dedicata soprattutto ai bambini, questi prodotti in latta, portalettere, che richiamano molto il Natale americano e sono al momento i prodotti più richiesti. Per il tuo Natale come ti stai organizzando? Earpot cosa ti sta fornendo? Earpot mi fornisce di tutto, quest'anno presumo che opterò per il Natale in rosa, è un colore molto richiesto e penso che opterò anche io per quello. Quando si parla di Natale si parla di feste, si parla di incontri tra le persone più care. Da Earpot possiamo trovare sempre per il Natale anche tutti quegli accessori per addobbare al meglio le nostre tavole, C'è davvero tutto? Sì c'è tutto, diciamo oltre alla parte decorativa abbiamo tutto ciò che serve per allestire, imbandire la tavola, quindi in piatti, sotto piatti, bicchieri, di ogni forma e ogni fantasia. Abbiamo davvero un assortimento molto ampio, anche piccoli decorazioni personali tipo cerchietti che possono andare bene la sera della vigilia per i bimbi, oppure costumi per i bambini, per grandi e per piccini, legati ovviamente alla festività natalizia. Fin qui abbiamo parlato di Earpot e Natale, ma Earpot è anche luogo dove poter scegliere i nostri addobbi, tutto ciò che ci occorre per gli eventi, anche i grandi eventi. E ci spostiamo in un'altra location, è vero Emanuele, di questo vasto showroom. Earpot nasce soprattutto per rivolgersi alla clientela, per fornire accessori per feste e cerimonie, quindi anche su quello l'assortimento è molto ampio e riusciamo a soddisfare la richiesta di chi deve festeggiare appunto, che sia compleanno, comunione, matrimonio e abbiamo davvero tantissimi prodotti. Dalla nascita al battesimo, alla comunione, ma anche i compleanni, matrimoni, cake design, party kit, uno showroom ricco di novità e curato nei minimi dettagli per la piena soddisfazione del cliente. Anche in questo caso abbiamo una vasta gamma, ciò che in questo momento non sembra essere più richiesto è tutto ciò che riguarda la festa del baby shower, cosiddetto gender party, quando in pratica si annuncia il sesso del nascituro ai parenti e agli amici. Anche per questo abbiamo davvero un assortimento molto ampio, che va da palloncini, piatti, bicchieri, coriandoli, davvero tanto. Chi vuole festeggiare l'airpot trova sicuramente tutto ciò che gli occorre. Anche cose molto particolari, dai palloncini che sembrano le tutine, dei neonati, abbiamo, non so, tutto curato nei dettagli, le cicogne. La classica cicogne che esiste ancora oggi, decorazioni varie e anche questi passeggini, che possono davvero carrozzine, culle, dove si può davvero mettere di tutto, dai confetti. Sicuramente sono degli oggetti che magari si prestano a più utilizzi, possono essere utilizzati sia per mettere all'interno dei confetti, per poter inserire le bomboniere che magari si danno a chi si reca a casa per gli auguri. L'assortimento è davvero molto ampio. Abbiamo anche in questo caso palloncini, che, come dicevo prima, questi che in pratica vengono utilizzati per quando viene annunciato il sesso del nascituro, a seconda appunto del sesso, questi palloncini vengono riempiti di coriandoli e poi esplosi al momento della comunicazione ufficiale e ovviamente se è un maschietto usciranno dei coriandoli celesti, rosa, se si tratta di una femminuccia. Mi lascio vedere che abbiamo davvero di tutto per poter festeggiare. E per i principini e le principesse c'è anche un ampio spazio dedicato al giorno del battesimo. Assolutamente. Tutto ciò che abbiamo visto qui nel settore nascita lo abbiamo anche per il battesimo, quindi allo stesso modo palloncini, festoni che ricordano il giorno del battesimo. Ed ora andiamo a conoscere nei dettagli un'altra parte dello showroom. Quale, Emanuele? Possiamo passare a quella dedicata alla comunione e alla cresima. Ci troviamo nel reparto dedicato alla comunione. Anche in questo caso abbiamo l'assortimento giusto per poter festeggiare questo evento importante per ogni bambino. Abbiamo palloncini, decorazioni in polistirolo, in legno con stampe a vinile legate sia alla comunione del maschietto che della femminuccia. quindi assolutamente in tema con l'evento. Alle nostre spalle invece c'è l'angolo dedicato all'addio al nubilato, all'addio al celibato, quindi un'altra ricorrenza importante dove i futuri sposi incontrano gli amici per festeggiare. Assolutamente. Diciamo prima del grande passo. È una festa che ormai tutti ci tengono a fare e anche in questo caso, per questo avvenimento abbiamo comunque una serie di accessori alcuni anche un po' più osi per poter festeggiare questa serata in allegria. Serata in allegria anche in occasione del compimento degli anni. Quest'anno si sta portando tanto il festeggiamento dei compleanni. Dopo questo periodo così difficile si ritorna a riunirsi fortunatamente per brindare e festeggiare e ci trasferiamo proprio nell'angolo dello showroom dedicato ai compleanni. Sì, diciamo che siamo finalmente in fase di ripresa da questo punto di vista. Abbiamo superato qualche mese un pochino più difficile rispetto agli anni precedenti. Speriamo che anche con l'avvento del nuovo anno si possa lentamente tornare alla normalità. Reparto dedicato al compleanno. Si parte ovviamente dai 18 anni. È la tappa più importante per ognuno di noi. È stata per ognuno di noi. C'è davvero di tutto. Dalle bottiglie, bicchieri, tovaglioli, palloncini. Di tutto. Sì, di tutto. Diciamo questo è il mondo da cui tutto è iniziato, i compleanni, per i quali ovviamente l'assortimento è il più ampio in assoluto. Quindi abbiamo tutto ciò che serve per i compleanni appunto il 18esimo, ma anche tutto in tema quarantesimo, cinquantesimo, fino a salire ai 90 riusciamo a desaudire le richieste di anche le persone più longevi. Però senza trascurare assolutamente i compleanni dei bambini. I compleanni dei bambini per i quali abbiamo un assortimento unico, presumo, in Italia dato che abbiamo tutto legato sia alle serie televisive che ai cartoni animati, quindi ogni cartone qui è presente, chi vuole fare una festa a tema può trovare ciò che occorre. Poi ovviamente oltre alle serie e ai cartoni animati abbiamo anche coordinati generici, possono essere quelli legati ai pirati, alla fattoria, non so, a spazio. Anche gli indiani sono qui, sono arrivati. Emanuele, dobbiamo dire una cosa. Earpot non è soltanto uno showroom dove ognuno di noi può venire. C'è personale professionale che ci dà i consigli più utili, migliori per realizzare i nostri eventi, ma è anche un luogo aperto ai negozianti, a coloro che hanno necessità di prendere un quantitativo di accessori e venderli nei propri negozi. Sì, sì, assolutamente. Earpot è, diciamo, sia dedicato ai privati, ma abbiamo anche una piattaforma che è Earpot B2B che è dedicata e destinata agli operatori del settore, quindi chiunque abbia una partita IVA relativa appunto a questo settore, a questa categoria merceologica, può acquistare da noi all'ingrosso e ottenere, diciamo, lo stesso assortimento che trova il privato, ce l'ha anche il negoziante, ovviamente con tutti i benefici che, diciamo, il canale ingrosso può portare. Emanuele, tu sei un giovane imprenditore. Perché hai deciso di investire in questo settore ricordando che Earpot è una piattaforma, è un web, quindi questo showroom è online e poi hai aperto questa sede. Ma perché proprio questo settore? Ma è nata l'esigenza di avere anche un negozio fisico anche perché oggettivamente la difficoltà principale negli ultimi anni diventava quella di far percepire, di far vedere a tutte le persone la quantità di prodotti che abbiamo. Questo non sempre attraverso il web si riesce a farlo passare. È ritenuto utile magari dare la possibilità alle persone di poter vedere, toccare con mano i prodotti e rendersi conto realmente dell'assortimento che abbiamo. E quindi l'ho fatto, il primo è questo qui a Sturno che è la nostra sede operativa e ho ritenuto giusto partire da qua. Earpot e anche accessori per la casa sia a tema come qui in Natalizio ovviamente con le tazze del latte per le prime colazioni, per sorseggiare non so, un buon tè, un caffè in buona compagnia ma anche tutto ciò che è necessario per la casa quindi anche oggettistica, no? Sì, come dicevamo prima oltre agli addobbi e ai decori per il Natale abbiamo anche tutta una serie di idee regalo che possono essere utili per il Natale ormai prossimo quindi spaziamo tra accessori, appunto come vedevamo tazze per la casa ma anche piccoli elementi di arredo che possono essere dei tavolini abbiamo delle statue che sono oggetti sia angeli che delle bamboline anche in questo caso cerchiamo di offrire alla nostra clientela una possibilità in più quindi se si pone il problema di dover fare un regalo all'ultimo minuto ci trovano qui e sicuramente potranno trovare qualcosa di utile anche perché qui possiamo trovare di tutto per il confezionamento per fare i nostri bei pacchetti regalo assolutamente possiamo fare i pacchetti possiamo confezionare panettoni possiamo preparare i cesti natalizi abbiamo un assortimento ampio di scatole di ogni forma e dimensione abbiamo dei tris vedo qui delle cappelliere quindi all'interno di ognuna di queste ne escono altre due quindi anziché tre regali possiamo pensare di poter preparare ci sono cesti c'è davvero di tutto dunque perché venire a Sturno in via Michelangelo Emanuele ricordiamo dove ci troviamo? Sì siamo a Michele e Michelangelo 25 dovete venire da noi per poter trovare tutto ciò che vi occorre per festeggiare quindi sia compleanni ma anche per festività prossime ormai Halloween fra qualche giorno e poi per il Natale che sicuramente si annuncia molto caldo Irpot dunque una realtà imprenditoriale erpina competente che mette passione in ciò che fa per proporre sempre nuove idee per i nostri momenti speciali dalle feste di compleanno agli eventi a tema dal battesimo alla prima comunione dal matrimonio alla laurea ma anche confettate e caramellate Come possiamo concludere questa intervista? Uno slogan di Irpot? Il nostro slogan è Irpot per i tuoi momenti speciali quindi cerchiamo di essere vicini ai nostri clienti nei momenti più belli che sono feste in generale e queste festività appunto che è il Natale Grazie a tutti